bentrovati bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it quello di oggi non è in realtà un video tutorial nel senso che non impareremo a fare nulla di particolarmente nuovo con premiere pro però è un tutorial che mi sento di fare per dipanare alcuni dei vostri dubbi sulle transizioni e sulle dissolvenze molti di voi commentando i miei video tutorial qui su youtube mi sottopongono un po più o meno la stessa domanda ovvero molti mi chiedono applico la transizione ma non succede niente altri ancora mi dicono applico la transizione ma non mi viene inserita bene o non riesco a centrarla insomma avete un po di problemi con le transizioni questo è chiaro ok piuttosto che mettermi a commentare le vostre domande sotto i singoli video preferisco realizzare un video a parte in cui spero di risolvere una volta e per tutte questo problema che avete con le transizioni mi sono reso conto in realtà che molti di voi hanno problemi ad applicare le transizioni e a lavorare con le transizioni in premiere in buona sostanza perché non hanno compreso cosa sia una transizione ok perché comprendendo cos'è una transizione e come funziona automaticamente le risposte alle domande che fate vengono spontanee e vengono anche in maniera abbastanza naturale mi spiego meglio facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cos'è una transizione una transizione sostanzialmente è il passaggio da un video a un altro se volete questa è una transizione è una transizione si dice a stacco vale a dire improvvisa ok questo frame c'è questa ragazza che fa yoga che fa stretching il frame successivo c'è una spiaggia questa se volete una transizione a stacco esistono tanti tipi di transizioni tra i tanti tipi di transizione che noi conosciamo una delle tante per esempio è la famosa dissolvenza incrociata cos'è la dissolvenza incrociata è il passaggio dalla clip a alla clip b in maniera morbida e graduale ok se volete però la transizione in premier è un po una semplificazione cioè questi sono effetti no che ci permettono con un click di realizzare il passaggio dalle due tra una clip e l'altra in maniera morbida e graduale ma noi questa transizione potremmo farla anche in maniera completamente manuale come ragioniamo un secondo abbiamo una clip a e una clip b se io metto la clip b sopra la clip a chiaramente la clip b viene visualizzata per prima e quindi avremo ancora una volta una transizione a stacco ma se io la clip b ok la impostassi come opacità allo 0 per cento quindi è totalmente opaca questo caso è trasparente inserissi un keyframe sull'opacità andassi un pochettino avanti e portassi l'opacità al cento per cento ecco che io avrei creato la stessa identica transizione di prima senza utilizzare l'effetto di solvenza incrociata ma utilizzando e giocando con il parametro proprietà della clip b è uguale è identico non è un modo migliore è un modo diverso se volete sicuramente più lento ok noi quando lavoriamo dobbiamo essere veloci quindi ovvio che preferiamo utilizzare l'effetto transizione e di solvenza incrociata però all in linea di principio è esattamente la stessa cosa vi faccio notare questa peculiarità vi faccio notare come funziona in realtà una transizione una dissolvenza perché automaticamente credo di poter rispondere a molte delle vostre domande molti mi dicono applico una dissolvenza ma non succede assolutamente niente ok in altre parole molti mi dicono taglio un video mi è successo l'altro giorno di trovare un commento simile applico la dissolvenza qualunque va benissimo ma non succede assolutamente niente perché dove sbaglio è la risposta è semplice tu caro amico hai sì fatto un taglio ma non c'è differenza tra la clip b e la clip a o meglio la clip b non è altro che il proseguo esatto della clip a quindi se tu inserirsi una dissolvenza non vedresti assolutamente nulla perché non in realtà c'era dissolvenza ma è su materiale identico se tu prendessi la clip b tagliassi e l'attaccassi alla clip a e applicassi la dissolvenza adesso sì che vedresti no la transizione applicata lo so molti di voi diranno è lo so è banale scontato no evidentemente non lo è perché ripeto qualche utente non uno è quindi non ce l'ho con una persona sola diverse persone mi hanno detto applico un taglio applico la dissolvenza e non succede niente ecco non succede nulla perché il materiale sostanzialmente sono l'uno il proseguo dell'altro quindi mi raccomando non fate mai questa cosa cioè tagliate e chiaramente poi dovete creare inserire qualcos'altro dopo il taglio non il proseguo della clip o questo è un problema che avete un altro problema che mi viene sottoposto spesso è applico una transizione per esempio su due clip o meglio cerco di applicare una transizione su due clip vediamo se riesco a farvi vedere qual è il problema ecco qui applico cerco di applicare una transizione ma non mi viene applicata o comunque c'è un messaggio di errore clicco e ho un problema non ho quello che voglio qual è l'errore ah allora per capire qual è l'errore dobbiamo tornare un po all'esempio di prima ok se io voglio fare una transizione da una clip a ad una clip b noi ci troviamo sempre in una situazione simile a questa cioè una clip deve diventare gradualmente opaca o al contrario deve diventare gradualmente trasparente per lasciare intravedere l'altra se non ho il materiale su da incrociare da inserire l'uno sopra l'altro per inserire la transizione è ovvio che premier ti dice io la transizione la la posso anche applicare ma su quale materiale non ho materiale su cui fare la transizione ricordate l'esempio dell'opacità ok qui abbiamo la clip eccola qui abbiamo appunto la il materiale vedete il keyframe sulla sulla proprietà opacità le due clip sono sovrapposte gradualmente l'una prende il sopravvento sull'altra e c'è del materiale su cui fare la transizione se io la stessa identica cosa l'avessi fatta senza avere il materiale quindi così per esempio io posso anche applicare la dissolvenza ok però come vedrete non ho l'effetto che voglio quindi quando non riuscite ad applicare una transizione perché vi dà un messaggio che manca del materiale vi trovate in questa stessa situazione in altre parole non potete fare una transizione su due clip al loro inizio e alla loro fine mi spiego se io lo so vado lungo su questa cosa ma mi rendo conto che per alcuni magari il concetto è un po più complesso se io ho questa clip e ho quest'altra clip e le metto una vicino all'altra io non posso applicare qui la transizione perché non posso applicare la transizione perché non c'è materiale su cui fare la transizione questa clip finisce questa clip inizia l'unica transizione possibile è una transizione a stacco si dice no non posso far sfumare una clip sull'altra per poter applicare la transizione devo sovrapporre le due clip ok fare così è la stessa cosa di fare così ok in questo momento questa clip è sotto quest'altra in un certo senso quindi quando vado ad applicare la transizione ho del materiale su cui fare la transizione ma notate come io per esempio in questo caso non possa andare alla fine perché non possa andare alla fine o meglio non possa centrare questo questa transizione perché se guardate bene questa clip finisce io vado ad applicare la mia transizione sulla fine della clip ma non posso andare oltre quindi se le due clip sono in questa situazione io posso applicare una transizione ma dove c'è il materiale sulla parte destra il materiale di questa clip finisce quindi ho questa transizione non posso spostarla è chiaro caso diverso se io avessi una situazione simile a questa ok questa clip ancora del materiale su cui poter lavorare quest'altra clip anche a del materiale su cui poter lavorare quindi se io le mettessi l'una accanto all'altra in questo caso sì che posso applicare una transizione e centrarla perché la clip a ancora del materiale su cui applicare la dissolvenza la clip b anche del materiale con cui iniziare una dissolvenza spero sia chiaro questo concetto perché molti in realtà mi scrivono sottoponendomi questi problemi applico la transizione e non funziona oppure non riesco a centrare la transizione perché ecco spero lo avevo già fatto diverso tempo fa l'abbiamo riproposto l'abbiamo rispiegato spero di essere stato chiaro vi prego commentate questo video e fatemi sapere se è tutto chiaro o se insomma qualcosa magari mi è sfuggito volete approfondire qualche altro argomento nel prossimo video tutorial che uscirà credo tra domani o comunque nei prossimi giorni vedremo come creare delle transizioni customizzate ok e speriamo che in questo modo sia ancora più chiaro il concetto di transizione di come avvengono e ricordatevi sempre che le transizioni che trovate tra gli effetti di premiere pro non sono altro che se volete delle semplificazioni no dei metodi che ci aiutano a fare il lavoro che ci aiutano a semplificare il nostro lavoro chiaramente tutto quello che voi fate in maniera automatica spesso può essere fatta in maniera manuale noi vedremo nella prossima lezione come si fanno delle transizioni personalizzate ma vi prego cercate di comprendere bene come avvengono le transizioni di default in premiere pro e in generale come funzionano a livello logico proprio le transizioni questo vi aiuterà molto poi quando andrete a creare le vostre proprie transizioni bene vi ringrazio www.fambiambrosi.it cercatemi anche su instagram seguite il mio account cercatemi su facebook e se non lo avete fatto ovviamente mettete un like a questo video e iscrivetevi a questo canale youtube grazie al prossimo video tutorial ciao ciao